Potenza post voto, tramutoli, opposizione costruttiva, il progetto prosegue. Polese rassegna le dimissioni dalla segreteria PD Basilicata. Ponte di Modugno sulla statale 96, situazione in fase di sblocco. Economia circolare e sostenibilità, iniziativa di Confindustria Amatera. Congresso nazionale a COI Amatera, il ministro Grillo, serve una riforma seria per la formazione post laurea. Maltempo in Basilicata, 6 milioni per i danni alle aziende agricole. Braia, solo un'operazione di ragioneria. Decoro urbano, nuovo look per le cassette postali di poste italiane anche in Basilicata. Cultura e tradizioni, la scuola Semeria di Matera porta in scena, ti racconto la mia terra. Potenza post voto, tramutoli, il progetto prosegue. Polese rassegna le dimissioni da segretario del PD. Vediamo i dettagli. Siamo più vivi che mai, da domani ripartiamo. Di sicuro posso dire che se la candidata del Partito Democratico fosse arrivata al ballottaggio, noi avremmo deciso di sostenerla in meno di un minuto pur di fermare la destra. A dirlo è Valerio Tramutoli, candidato di Basilicata possibile, sconfitto per appena 200 preferenze, al ballottaggio del 9 giugno per la carica di sindaco di Potenza. Nell'analisi post voto, che ha premiato il leghista Mario Guarente, l'esponente del Movimento Civico ha ringraziato per il sostegno e rassicurato i giovani fuorisede per essere tornati a votare. Un progetto politico nato in soli quattro mesi, prende 16.000 voti e per poco non riesce a portare 20 candidati nuovissimi, giovani, al Consiglio a governare la città. Dispiace naturalmente perché per la città noi avevamo un progetto molto bello in cui credevamo. Dispiace per i tanti giovani che sono tornati apposta per votare. Allora volevo dire che la politica non è un campionato di calcio, non è una partita che si finisce, si vince e si perde. Adesso comincia la politica. Vorrei che stessero con noi, adesso che si costruisce questo nuovo soggetto politico e che si riparte dalla buona politica e dalla partecipazione. Giovedì intanto sarà a Matera per resporre un progetto politico in vista delle future amministrative nella capitale europea della cultura 2019. Nel mezzogiorno ha detto c'è una domanda di cambiamento che i partiti di sinistra non sono riusciti ad interpretare. La classe dirigente locale non rappresenta più quella parte politica. E da poca distanza, temporale e chilometrica, Mario Polesi ha incontrato la stampa per comunicare le dimissioni da segretario del Partito Democratico di Basilicata. Renziano, eletto nel 2017, il già consigliere regionale, ha spiegato la scelta, già maturata, prima delle tornate elettorali, sia regionale che comunale. Si chiude un cerchio, si vada a congresso, ha detto, resto un iscritto, serve discontinuità. Al di là della sconfitta delle regionali, che mi voglio in qualche misura assumere, non credo di avere responsabilità sulla vicenda delle politiche. Credo che alle europee, nelle comunali, eccetto Potenza Città e nelle elezioni provinciali, il Partito Democratico abbia dimostrato di essere forte e presente sui territori. E io mi dimetto, vuol provare a offrire tutti coloro i quali sono anche rimasti in qualche maniera scontenti negli ultimi anni dell'approccio che il Partito Democratico ha avuto nei confronti delle comunità di potersi giocare una funzione e una partita. E siamo sempre a Potenza, nel prossimo servizio scopriamo i nomi dei consiglieri comunali eletti. E la Lega è il partito più rappresentato nell'Assemblea Municipale di Via Nazario Sauro, con 5 consiglieri su 32. Si tratta di Stefania Dottavio, Rocco Bernabei, Rocco Coviello, Gianmarco Blasi e Patrizia Guma. Sempre in quota maggioranza, Francesco Cannizzaro, Alessandra Sagarese, Massimiliano Di Noia e Giuliano Velluzzi per Potenza Civica. Michele Napoli, Alessandro Galella, Maddalena Fazzari e Giuseppe Giuzio per Fratelli d'Italia. Giuseppe Pernice, Michele Beneventi, Antonio Di Giuseppe per Idea. Fernando Picerno, Fabio D'Apoto, Matteo Restaino di Forza Italia. E Antonio Vigilante per Lista Civica per la Città. All'opposizione, Bianca Andretta, candidata sindaca della coalizione di centro-sinistra. Vincenzo Telesca e Roberto Falotico del Partito Democratico. Angela Blasi per Insieme per Bianca. Francesco Flore di Più Europa, progetto popolare, Rocco Pergola per la potenza dei cittadini. Ed ancora Valerio Tramutoli, candidato sindaco della coalizione Basilicata Possibile, insieme a Francesco Casella, Angela Fuggetta e Francesco Giuzio per Basilicata Possibile e Pierluigi Smaldone di Potenza Città Giardino. Un solo rappresentante per il Movimento 5 Stelle, il candidato sindaco Marco Falconeri. E ieri a Vigiano il primo consiglio comunale guidato dal riconfermato sindaco a Medeo Cicala, nel corso del quale è stata data comunicazione della Giunta. Paolo Varalla sarà vice sindaco con deleghe allo sport, spettacolo e politiche giovanili. Vincenzo De Cunto, assessore alle attività produttive. Enza Pugliese, assessore alla cultura e istruzione. Rosida Gerardi, invece, assessore al bilancio, ambiente e politiche sociali. Proseguono intanto i lavori sul ponte della Statale 96 nei pressi di Modugno, danneggiato da un tir nell'ottobre del 2017. Secondo il consigliere regionale pugliese Colonna, entro pochi giorni tutto tornerà come prima. Ascoltiamo. Un paio di settimane di disagi con percorsi alternativi che metteranno alla prova viaggiatori e pendolari, ma entro pochi giorni la circolazione sulla Statale 96, limitata a due corsie dall'ottobre 2017, in seguito all'impatto di un tir che trasportava un'escavatrice contro un ponte nei pressi di Modugno, verrà completamente ripristinata. Lo conferma anche il consigliere regionale Enzo Colonna, che in questi mesi ha fatto da tramite tra Anas e amministrazione. I lavori sono iniziati ieri, lunedì. Due erano circa dieci giorni. Si tratta di operazioni di montaggio di tre moduli, di una trave reticolare, una doppia trave reticolare, che andrà poi ad assorbire il carico della trave danneggiata. Quindi la trave danneggiata resterà lì. Quindi sono moduli prefabbricati e quindi si tratterà di procedere al montaggio. E questo implicherà inevitabilmente delle giornate di interruzione di quel tratto con deviazione e quindi inevitabilmente con delle repercussioni sulla circolazione. Ma si tratta di pochi giorni. Ormai siamo in dirittura via. Dopo un anno e mezzo possiamo dire chiusa questa vicenda, molto complessa, molto articolata. Ho cercato di accompagnare il comune di Modugno ad affrontare una vicenda ovviamente molto complicata, quindi con interruzione con l'Anas. Per giunta la regione è intervenuta anche con un sostegno economico di 75 mila euro che si aggiungono alla quota parte del comune. Quindi possiamo essere felici di poter consigliare ormai chiusa questa vicenda. Economia circolare e sostenibilità, iniziativa di Confindustria a Matera. Vediamo i dettagli. Imprenditori, amministratori pubblici, università e associazioni impegnate nella difesa dell'ambiente a Matera per imprese possibili in materia circolare. I Rigom e Consea, due società pugliesi selezionate dal bando Open Future di Confindustria e Fondazione Matera Basilicata 2019, hanno promosso l'iniziativa in programma fino al 16 giugno nell'ipogei di Piazza San Francesco per promuovere e premiare le imprese che fanno economia circolare. Economia circolare che diventa un fattore molto importante per quando si vogliono intercettare vie di sviluppo attraverso il rispetto dell'ambiente. L'industria non deve essere un fattore letto come un fattore negativo per il popolo, per la cittadinanza. L'industria deve essere letta anche come rispetto per l'ambiente ed ecco perché ci deve essere una buona comunicazione del valore dell'impresa con quello dell'ambiente. Si possono intercettare nuove economie avendo rispetto dell'ambiente? Ci racconta l'esperienza della sua azienda. La Irigom è ormai da oltre un decennio che opera in questo settore nel recupero principalmente dei pneumatici fuori uso e fa esattamente quello che lei ha detto cioè cerca di trovare nuove soluzioni a un problema che è la raccolta dei pneumatici fuori uso trasformando da un problema a una risorsa sia in termini ambientali sia in termini economici. Per l'occasione anche l'esposizione in anteprima della mostra Terra delle Gravine Vivila fino in fondo dedicata al fascino dei territori di Massafra soggetto capofila e altri 11 comuni pugliesi. È un fattore identitario che accomuna la Terra delle Gravine con Matera è una mostra in cui rappresentiamo lo straordinario fascino di questo territorio e invitiamo quindi tutti i materani e soprattutto tutti i turisti che passeranno per queste strade ad approfittare e a visitare sia la mostra e poi soprattutto i nostri luoghi nella loro autenticità. Accordo Green Jobs Matera 2019 seminario il 14 giugno su iniziativa di Conai. Ascoltiamo. Per lo sviluppo delle competenze nel settore del riciclo è in programma venerdì 14 giugno nelle sale della Camera di Commercio a Matera un nuovo seminario tematico promosso da Conai il consorzio privato senza fini di lucro costituito da oltre 800.000 aziende produttrici e utilizzatrici di imballaggi che ha la finalità di perseguire gli obiettivi di legge di recupero e riciclo dei materiali di imballaggio. L'iniziativa rientra nell'accordo Green Jobs Matera 2019. Il programma della giornata, realizzato in collaborazione con la società Eda Pro prevede approfondimenti sugli aspetti normativi, tecnici ed economici della valorizzazione dei rifiuti. Dalla responsabilità ambientale dell'impresa alla figura del responsabile tecnico dai rifiuti da manutenzione alle certificazioni EMAS e ISO alla gestione dei sistemi consortili per il riciclo dei rifiuti di imballaggio attraverso una serie di puntuali interventi da parte di qualificati esperti a livello nazionale delle tematiche ambientali. Durante la mattinata è prevista inoltre una breve cerimonia di consegna degli attestati ai partecipanti e i primi due percorsi formativi di Green Jobs che si sono tenuti a maggio al campus universitario di Matera. Il seminario tematico è rivolto a studenti, aziende e a pubbliche amministrazioni della regione basilicata. L'accordo Green Jobs Matera 2019 fa parte del protocollo di intesa siglato tra le città di Matera e Cortina e Conai per collaborare alla sostenibilità di due grandi eventi come Matera, Capitale Europea della Cultura e i successivi mondiali di sci alpino di Cortina 2021. Due occasioni fondamentali in un percorso ideale che va da sud a nord per favorire la promozione e la diffusione della cultura e dello sviluppo sostenibile in territori dall'alto valore paesaggistico. Mal tempo, 6 milioni per danni agli aziende agricole, Braia, solo operazione di ragioneria. Correttezza e garbo istituzionale vorrebbero che quando vengono effettuati sblocchi di risorse economiche per pagamenti che sono frutto di operazioni di ragioneria e di approvazione di bilancio non si comunichino come attività nuove da parte degli uffici dipartimentali che è noto perché sempre notificato in trasparenza hanno già lavorato e molto bene su questo tema nel passato. Non le manda a dire il consigliere regionale Luca Braia di Avanti Basilicata che precisa accogliamo con soddisfazione la nota dell'assessore Fanelli relativa allo sblocco di 4 milioni di euro destinati a liquidare le aziende agricole e al ristoro dei danni da calamità naturale subiti nel 2013 e nel 2016 di cui l'iter istruttorio delle domande che hanno partecipato ai bandi è ovviamente già concluso. Si tratta, prosegue, di risorse imputate a bilancio oggi a favore degli agricoltori e per le calamità per le quali abbiamo lavorato nella precedente legislatura. Piuttosto ci piacerebbe conoscere e conclude Braia quale sia lo stato dell'arte della richiesta di calamità relativa all'ultima grandinata arrivata all'inizio del nuovo mandato di governo regionale. Congresso a Coyamatera il ministro Grilli serve una riforma seria per la formazione post laurea ascoltiamo. Esistono già delle proposte sul tema della formazione e lavoro dei medici entro fine anno potrebbe arrivare un testo a dirlo al ministro della salute Giulia Grillo intervenendo via Skype al congresso a Coy dell'Associazione dei chirurghi ospedalieri italiani in programma a Matera fino a mercoledì 12 giugno. Il tema della formazione e lavoro dei medici è infatti al centro del dibattito del congresso in corso nella capitale europea della cultura la Coy ha non a caso presentato al ministero competente un'idea progettuale per l'istituzione di un ospedale scuola che possa favorire una migliore formazione ai giovani chirurghi in considerazione di un settore in costante cambiamento e caratterizzato da una sempre crescente innovazione tecnologica. Per il ministro in generale bisogna affrontare una riforma strutturale seria che cambi la formazione post laurea dei medici che aiuti ad avere un sistema più fluido come nel resto d'Europa. Il tema ha rilevato il ministro Grillo l'opposto quando abbiamo fatto il programma del Movimento 5 Stelle è cambiare l'approccio del post laurea del medico uscire dall'ottica del medico laureato e abilitato che continua ad essere come uno studente. E oltre 10 persone sono state denunciate all'autorità giudiziaria dai carabinieri in provincia di Potenza al termine di un'operazione decisiva da decisa, scusate, dal comando provinciale dell'arma per verificare il rispetto della normativa in materia di detenzione custodia delle armi e delle munizioni i carabinieri hanno sequestrato 5 fucili 5 pistole e 295 munizioni di vario calibro in via cautelare due fucili ed una pistola sono stati ritirati per l'inosservanza delle prescrizioni di custodia e sono state inoltrate alla prefettura di Potenza le proposte di revoca del permesso per la detenzione delle armi le denunce sono state decise dopo controlli eseguiti in numerosi comuni e anche a Valsini il progetto bambini 6.0 6 sensi 0 confini vediamo dalla parte dei più piccoli in un gioco di squadra per crescere insieme e vivere la genitorialità al 100% mamme, papà, operatrici, volontari e appunto loro i bambini il progetto 6.0 6 sensi 0 confini che vede la partecipazione di numerosi partners in tutta la regione guidati dal consorzio la città essenziale arriva anche a Valsini il servizio che abbiamo inaugurato a Valsini rappresenta un presidio per un tempo extrascolastico di qualità in un comune comunque dell'entroterra lucano quindi il centro per bambini e famiglie che abbiamo inaugurato a Valsini è realmente il punto d'incontro di quell'alleanza educativa regionale che con il progetto bambini 6.0 lo stiamo portando in giro per la Basilicata e che vede protagonisti, coprotagonisti una serie di soggetti del territorio e quindi in particolare poi con il protagonismo delle famiglie vivere al 100% la genitorialità significa condividere tutte le fasi di vita del proprio figlio non solo quelle fasi che noi da mamme siamo anche un po' obbligate a vivere all'interno delle nostre mura domestiche vivere la genitorialità significa confrontarsi anche con i propri figli quindi giocare con loro confrontarsi in un contesto più flessibile e strutturato sì perché vi saranno delle attività organizzate e strutturate ma ci darà da genitori la possibilità di partecipare appieno alla vita sociale e educativa e di gioco dei nostri figli questo è un luogo particolare perché tra le altre cose c'è anche un RSA io so che tra i progetti che sono stati fatti e che si faranno c'è proprio anche questo confronto tra generazioni di persone che però abitano sotto tra virgolette lo stesso cielo sì è così abbiamo già avviato una collaborazione con la casa di riposo RSA Chiaraluce con la cooperativa che gestisce ovviamente questo servizio e ci siamo sperimentati in un laboratorio intergenerazionale bambini e anziani durante le festività natalizie è stato bello vedere due generazioni a confronto due generazioni che apparentemente appartengono a due età anagrafiche completamente diverse ma si completavano e la cosa molto più bella che abbiamo potuto toccare con mano è stata la serenità non solo degli anziani ma soprattutto dei più piccoli ho accolto e sostenuto subito le nuove iniziative perché volevo che mio figlio partecipasse a delle attività ricreative per relazionarsi e socializzare anche con altri bambini e in più per discoglierlo dalle nuove forme di gioco che la tecnologia ci sta imponendo e quindi ho accolto questa cosa perché ho visto che poi loro in questo contesto riescono ad imparare giocando Le opere di Salvador Dalì sono ormai parte integrante della città dei Sassi quello proposto per Matera 2019 infatti è un vero e proprio viaggio nell'universo dell'artista surrealista nato dalla collaborazione tra l'associazione culturale materana alla scaletta e la società internazionale Dalì Universe con il patrocinio del comune di Matera oltre al percorso espositivo la persistenza degli opposti realizzato nel complesso rupestre di Madonna delle Virtue San Nicola dei Greci e oltre gli elementi monumentali già collocati per le strade della città appare adesso un'altra scultura che è il risultato di una delle prime collaborazioni tra Beniamino Levi presidente del Dalì Universe e Dalì stesso si tratta di un cavallo ubicato nel piazzale della stazione centrale che simboleggia l'onipresenza del tempo il peso che esso porta in sé per tutte le nostre azioni l'animale infatti sembra protestare contro questa costrizione sgradita i suoi movimenti esprimono il futile tentativo di liberarsi parliamo di decoro urbano nuovo look per le cassette postali di poste italiane vediamo saranno di un rosso fiammante come quelle di una volta le cassette postali dei piccoli comuni della Basilicata coinvolti nel progetto decoro urbano di poste italiane si tratta di un programma di restyling sostituzione e manutenzione straordinaria delle vecchie cassette postali in funzione dal 1961 che finora ha interessato 10 comuni in provincia di Matera Accettura, Calciano, Garaguso, Grotto, Leirsina Olivetto Lucano, Pomarico, Salandra e San Mauroforte e 12 comuni in provincia di Potenza Guardia Perticara, Teana, Armento, Trivigno, Castelmezzano, Gallicchio, Brindisi di Montagna Pietra Pertosa, Terra 9 di Pollino, Chiaromonte, Calvello e Corletto Perticara l'intervento è parte del programma dei 10 impegni per i comuni italiani con meno di 5.000 abitanti promosso dall'amministratore delegato di poste italiane Matteo Delfante in occasione dell'incontro con i sindaci d'Italia dello scorso 26 novembre a Roma con il quale viene ribadita la presenza capillare di poste italiane sul territorio e l'attenzione verso le aree meno densamente popolate perché come ha affermato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella i piccoli comuni sono lo specchio dell'Italia Ed è stato presentato il libro Andare per Matera e la Basilicata Vediamo Presentato a Matera l'ultimo volume della giornalista lucana Eliana Di Caro Andare per Matera e la Basilicata edito da Il Molino l'autrice ha pensato un itinerario tra Matera e la Basilicata intrecciato alla cultura a quelle che sono state le voci che hanno raccontato attraverso la letteratura e la poesia anche col dialetto questa terra non solo Carlo Levi e Aliano o Pascoli e Matera ma anche Valsini con Isabella Morra Alvino Pierro e Tursi Tricarico e Rocco Scotellaro Montemurro e Leonardo Sinisgalli e Orazio Avenusa Ho fatto una scelta di fondo cioè sono andata partendo da Matera ripeto con Carlo Levi, con Pascoli, con Pasolini e poi proseguendo questo viaggio in alcuni paesi lucani li ho scelti in base al loro legame con alcuni autori protagonisti della vita intellettuale che hanno cantato poi questi paesi nella loro produzione quindi ho scelto i classici che però sono da riscoprire perché appunto ripeto molti ancora non li conoscono e invece hanno davvero nobilitato questa terra Che ritratto ne viene fuori? A mio avviso è un ritratto ricco perché sono appunto dei grandi parliamo di Scotellaro, parliamo di Isabella Morra, parliamo di Sinisgalli quindi io credo che sia un valore aggiunto notevole conoscere la produzione di questi autori e il territorio che è protagonista della loro opera Nata a Matera, Eliana Adicaro è giornalista al Sole 24 Ore e vice caposervizio del supplemento Cultura della Domenica dove cura le pagine di luoghi e persone, storia e storie, economia e società E la scuola semmeria di Matera porta in scena Ti racconto la mia terra, vediamo Ti racconto la mia terra si intitola così Lo spettacolo teatrale è presentato lunedì 10 giugno dagli alunni e dalle insegnanti della scuola primaria Semeria di Matera è curato dall'attore ed esperto di pedagogia teatrale Simone Castano Sono due anni che collaboro con l'istituto Semeria e quest'anno abbiamo voluto fare un progetto ancora più grosso rispetto a quello dell'anno scorso è stata una scommessa, a me le sfide piacciono e quindi ho accettato molto volentieri poi grazie alle maestre abbiamo fatto un buon lavoro Nella narrazione si ripercorre la storia della città dal Neolitico sino ad oggi L'appuntamento fa seguito a un laboratorio di pedagogia teatrale svoltosi nella seconda parte dell'anno scolastico che ha saputo riunire oltre 200 bambini dalle classi prime alle quinte La particolarità di questo spettacolo è stata proprio questa l'aver coinvolto proprio tutti i bambini dalle prime alle quinte Ognuno di loro ha dato il massimo e sono riusciti veramente a mettere su uno spettacolo che poi fra l'altro hanno fatto loro perché anche le battute, le coreografie hanno realizzato completamente i bambini hanno fatto tutto loro, per questo siamo veramente molto molto soddisfatte Siamo tutti orgogliosi anche di abitare a Matera e quindi di essere cittadini di questa città Le nostre quarte in particolare hanno un ruolo molto importante ossia rappresentano la vergogna nazionale da quando Matera passò da vergogna appunto a capitale europea della cultura Un percorso di condivisione che ha rappresentato altresì un momento di crescita per tutti Sabato 8 giugno anche gli alunni della scuola primaria Alberto Manzi di Borgola Martella che fa capo allo stesso istituto comprensivo con la manifestazione di fine anno Il futuro è un cuore antico Hanno trasformato la piazza del Borgo in un grande laboratorio socio-storico Al centro della manifestazione sempre la riscoperta e la valorizzazione della storia della città con i mestieri e giochi di un tempo sino ad arrivare alla storia del Borgo La Martella e all'idea di un futuro ecosostenibile E in chiusura vi lascio ad un messaggio promozionale naturalmente vi do appuntamento alle prossime edizioni A Matera l'architettura incontra il design un lavoro sul paradosso fra le misure sul cambiamento vertiginoso di scala e sull'incrocio di funzioni tra loro lontane Fino al 4 agosto resteranno esposti negli spazi di Calia Interiors i felici esiti di due operazioni di ricerca che testimoniano l'incessante attività di esplorazione nel mondo del possibile creativo di Alessi una delle più note fabbriche del design italiano Questa mostra racconta 20 anni di ricerche a cavallo tra architettura e design perché l'idea iniziale negli anni 70 addirittura alla fine degli anni 70 è stata quella di lavorare con degli architetti internazionali ma invitandoli a disegnare un servizio da tè caffè come fosse una piazza e si sono scatenati nella fantasia e hanno creato delle vere e proprie opere d'arte è stata un'esperienza fantastica e 20 anni dopo è stata fatta con una nuova generazione di architetti che adesso sono quasi tutti archistar Per un'azienda come Calia Italia che fa progettazione che si occupa di design ormai da quasi 54 anni questa è stata un'esperienza bellissima è un modo di contaminarsi reciprocamente con progetti che solo apparentemente possono sembrare distanti cioè l'oggetto di uso domestico quale può essere una caffettiera una teiera eccetera è un divano c'è di positivo che le contaminazioni generano sempre nuove cose In occasione della prestigiosa esposizione uno spazio di Calia Interiors è stato interamente dedicato alla nuova collezione Alessi di accessori di design per la casa L'idea è quella di cercare di mediare tra la creatività internazionale per cui si lavora con i designer ma si lavora anche con gli architetti a volte si lavora anche con artisti con pittori quindi con il mondo della creatività a 360 gradi e quindi mediare questa ricchezza incredibile con i desideri i sogni delle persone per realizzare dei piccoli oggetti che diventano membri della famiglia e portano, si spera, un po' di felicità La mission di Alessi ben si coniuga con l'impegno incessante della storica azienda materana Calia Italia con attività prestigiose di promozione della città dei Sassi e della sua cultura a livello nazionale e internazionale con iniziative utili a favorire oltre lo sviluppo economico anche quello sociale e culturale Sostenere Matera Capitale Europea della Cultura con progetti di questo respiro ritengo sia un dovere di un'azienda che opera nel territorio quindi inserirci nella progettualità di Matera Capitale credo sia proprio il dovere il nostro dovere Servizi da tè, caffè dalla bellezza senza tempo come quella di un capolavoro di scultura o di un sofisticato abito di alta sartoria La mostra, inserita nel cartellone di eventi per Matera 2019 rimarrà allestita fino al 4 agosto nello showroom Calia Interior in via Annunziatella a Matera Campanella Nell'e Grazie a tutti.